carissimi amici e amiche benvenuti alla prima puntata di un nuovo ulteriore ciclo di catechesi un po particolare dedicato alla figura di maria di magdala la grande peccatrice convertita discepola forse prediletta del signore almeno una generale femminile evidentemente lasciando fuori dell'ambito di discussione la sua santa e divina madre che sta su un altro pianeta quindi la divina maria non può mai essere termine di paragone con niente con nessuno quindi quando si parla di santi e di graduatore bisogna fare finta che non esiste perché lei da sola straccia tutti quanti quindi non si può parlare ma maria di magdala però secondo i vangeli come noi sappiamo è stata la prima ad incontrare il nostro signore gesù cristo dopo la risurrezione e quindi questo è certamente particolare non indifferente ora noi chiaramente questo ciclo di catechesi che è appunto maria di magdala negli scritti di maria valtorta seguiremo la vicenda di questa straordinaria e affascinante mi si permetta di dirlo solo dico in senso evidentemente buono donna veramente straordinaria con un carattere meraviglioso e attraverso quello che si va componendo negli scritti di maria valtorta il centro di oriano valtortiano ha fatto una bellissima sintesi proprio pubblicando un volume a cura di marisa tra tiraboschi sia appunto la maddalena che raccoglie in maniera sapiente rotti quanti gli scritti su maria di magdala tratti appunto dall'opera di maria valtorta nella prefazione si affronta una come dire problematica storico esegetica chi è maria di magdala alla luce dei racconti evangelici come sappiamo che c'è la peccatrice senza nome di luca 736 50 quella che va a piangere ai piedi di gesù in casa di simone il fariseo e poi c'è maria di magdala e poi c'è maria di betania ci sono queste tre donne sono la stessa persona sono due sono tre ora san gregorio magno il grande san gregorio magno volle identificare queste tre donne in una sola persona chiamata maria maddalena e il suo indirizzo lo seguirono salvo qualche eccezioni tutti gli autori datini a lui posteriori e la santa chiesa la venera ancora oggi nonostante il prevaliere dell'opinione contraria che distingue queste figure sulla base di un'analisi più approfondita delle delle fonti addette di queste e eseggeti quindi addirittura tre o almeno due persone diverse la santa chiesa comunque la venera una festività liturgica propria il 22 di luglio ovviamente gli iscritti di maria valtorta danno ragione a san gregorio magno e certamente non si mettono a discettare di eseggesi scientifiche come del resto non faceva nemmeno san gregorio magno né gli autori che l'hanno seguiti a me personalmente pare oltre in modo verosimile l'identificazione di queste tre donne in una sola perché ripeto senza entrare nell'ambito della scientificità le eseggesi scientifica tra l'altro non è mia competenza e non sono non sono dottore in né in eseggesi né in teologia biblica ma in dogmatica quindi non è certo evidentemente conosco un po la sacra scrittura come ogni sacerdote deve conoscere perché la deve annunciare ci deve predicare sa come sono fatti più o meno i testi biblici più o meno come vanno presentati interpretati no però non è la mia specializzazione però sicuramente come dire a a sesto senso e mezzo a percezione a naso in un confronto diciamo così anche di di questi brani sembra la stessa persona anche perché la peccatrice spacca un vaso di alabastro per gettare le pelle di gesù poi a maria di betania ne spacca 16 giorni prima della passione per ungere il capo di gesù no quindi ci sono diciamo così dei punti di concordanza che sicuramente da un punto di vista scientifico eseggetico nasceranno il tempo che trovano ma che però sono sufficienti per procedere con ogni caso qualunque voglia essere la posizione di di dell'ascoltatore di questo cibo di catechesi si sappia che negli scritti di maria valtorta le tre donne coincidono e quindi in questo senso ci accingiamo adesso a aprire questo ciclo di catechesi seguiremo il testo un po come in alcune catechesi diciamo di di questo genere lo seguo un testo lo leggo perché bisogna anzitutto goderselo e poi mano mano che è opportuno commentarlo primo capitolo abbastanza ampio e narra il primo incontro tra gesù e maria di magdala quando evidentemente ancora era una grande peccatrice ed è molto bella anche la descrizione di come era maria di magdala e poi sarà molto bello confrontarlo con quello che diviene dopo la conversione è il primo anno della vita pubblica di gesù a cafarnao c'è stata la chiamata di matteo che ha completato il numero di 12 futuri apostoli ai quali si trova occasionalmente unito un pastore di nome giuseppe divenuto discepolo questo è il contesto gesù con tutti i suoi ormai sono in tredici più lui sono sette per barca sul lago di galilea gesù nella barca di pietro la prima insieme a pietro andrea simone questo giuseppe e i due cugini due cugini di gesù per chi non lo sapesse sono giacomo e giuda di alfeo nell'altra sono due figli di zebedeo giacomo e giovanni l'iscariota filippo tommaso natanaele altro nome dell'apostolo bartolomeo per chi non lo sapesse e matteo le barche veleggiano svelte spinte da un vento fresco di borea che appena increspa l'acqua in tante rughettine appena sottolineate da un filo di spuma che fa un turle sull'azzurro di turchese del bel lago sereno vanno lasciandosi dietro due scie che alle basi si baciano confondendo le loro sfume gioconde in un unico riso di acque perché vanno quasi di conserva quella di pietro appena più avanti di un due metri queste sono le leggendarie descrizioni di maria valtorta che aveva un'arte veramente unica a mio avviso nel nel talento descrittivo sembra di essere di vederle queste scene anche essendo descritte e non rappresentate in maniera scenografica o cinematografica da barca a barca lontane pochi metri l'una dall'altra si scambiano parole e commenti da questi arguisco che i galilei illustrano e spiegano ai giudei i punti del lago i loro commerci le personalità che vi abitano le distanze dal luogo di partenza di arrivo ossia caparnao e tiberiale le barche non pescano sono solo adibite a trasporto delle persone gesù è seduto a prua e gode visibilmente della bellezza che lo circonda del silenzio di tutto quell'azzurro puro di cielo e di acque a cui fanno nello sponde verdi disseminate di paesi tutti bianchi fra il verde si astrae da discorsi dei discepoli molto in avanti sulla prora quasi sdraiato su un fascio di vele a capo sovente chino su quello specchio di zaffiro che è il lago come studiasse il fondale e si interessasse di quanto vive in quelle acque limpissime ma chissà cosa pensa pietro lo interroga due volte per sapere se il sole che ormai alzato del tutto d'oriente prende in pieno la barca nel suo raggio non ancora rovente ma già caldo lo disturbi un'altra volta gli dice se vuole anche lui pane e cacio come gli altri ma gesù non vuole nulla né tenda né pane e pietro lo lascia in pace un gruppetto di piccole barche da diporto quasi scialuppe ma tutte ricche di baldacchini porpuri di morbidi cuscini taglia per traverso la strada alle barche dei pescatori suoni risate profumi passano con esse sono piene di belle donne e di gaudenti romani e palestinesi ma più romani o perlomeno non palestinesi perché qualcuno deve essere greco almeno così arguisco dalle parole di un giovane magro snello bruno come un'uliva quasi matura tutto azzimato in una corta veste corta veste rossa limata da una pesante greca al fondo e tenuta alla vita da una cintura che ha un capolavoro di orafo dice ella di è bella ma neppur l'olimpica mia patria questo azzurro e questi fiori e in vero non stupisce che le idee l'abbiano abbandonata per cui venire sfogliamo sulle idee non più greche ma giudei i fiori le rose e gli omaggi e sparge sulle donne della sua barca i petali di splendide rose e altre le getta sulla barca vicina risponde un romano sfoglia sfoglia greco ma venere è con me io non sfoglio io colgo le rose su questa bella bocca e più dolce e si china a baciare sulla bocca aperta al riso maria di magdala semi sdraiata sui cuscini e col capo biondo in grembo al romano ormai le barchette sono proprio contro le barche pesanti e sia per imperizia ed evocatori sia per gioco di vento per poco non cozzano state attenti se vi preme la vita urla pietro in ferocito mentre vira dando un colpo di barra per evitare il cozzo insulti di uomini e grida di spavento delle donne vanno da barca a barca i romani insultano i carrile dicendo scansatevi cani di ebrei che siete pietro e i carrilei gli altri carrile non lasciano cadere l'insulto pietro specialmente rosso con un galletto ritto proprio sul bordo della barca che beccheggia fortemente con le mani sui fianchi risponde per le rime non risparmiando né romani né greci né ebrei né ebrei anzi a questa dedica a queste dedica tutta una collana di appellativi onorifici che lascio nella penna vedete che maria voltorta è anche un po ironica no e qui vediamo anche il carattere focosso diciamo così di pietro pietro ormai era era ai primissimi passi si era appena formato il gruppo apostolico quindi era tutto bello ancora così come era stato colto dal signore no il bacchi il battibecco dura finché il groviglio di chiglie di remi non si è dipanato e ognuno va per la sua via gesù non ha mai cambiato posizione è rimasto seduto assente senza sguardi né parole per le barche e i loro occupanti appoggiato su un gomito ha continuato a guardare alla sponda lontana come nulla accadesse gli viene gettato anche un fiore non so da chi certo da una donna perché sento una risatina femminile accompagnare l'atto ma lui niente il fiore lo colpisce quasi sul volto e casca sulle tavole finendo sotto ai piedi del bollente pietro ecco qui vorrei fare un pit stop per far risaltare questo atteggiamento del signore una delle cose molto belle degli iscritti di di maria valtorta proprio vedere questa umanità perfetta di nostro signore certo un'umanità vera ma perfetta che era sempre capace di fare la cosa giusta al momento giusto dinanzi ad una scena da trivio diciamo così in cui si era trovato insomma il grado coinvolto stava sulla barca e si sono messi a litigare gli ebrei con i romani cosa deve fare un maestro un rabbino penso per esempio anche a me che sono un sacerdote dove non mi trovo dovessi trovare una situazione analoga ignorare come se niente fosse estraniarsi c'è una signorina un bel po' impudica che va a fare un gesto evidentemente certamente non consola nostro signore zero assoluto il latino si dice tanquam non esset come se niente fosse il dominio di sé che negli scritti di maria valtorta appare veramente come dire possente in gesù veramente straordinario è un importantissima virtù volesse il cielo che possiamo tutti impararla e impararla bene non agire mai di impulso non agire mai di di petto non lasciarci prendere dalle reazioni del momento non dire cose di cui ci potremmo pentire non fare cose che non è opportuno fare ecco è bellissimo gli scritti di maria valtorta non soltanto sentire parlare gesù no ma proprio queste bellissime descrizioni che lei da ci consentono di osservare proviamo a guardare questa questa scena no e gesù imperturbabile quando le barchette stanno per allontanarsi vedo che la maddalena si alza in piedi e segue la traccia che le indica una compagna di vizio ossia punta i suoi occhi splendidi sul volto sereno e lontano di gesù quanto lontano dal mondo il volto di simone interpella l'iscariota tu che sei giudeo come me rispondi ma quella bellissima bionda in grembo al romano quella che si è alzata in poco fa non è la sorella di lazaro di betania non sono nulla io risponde asciutto simon cananeo sono tornato fra di vita poco e quella donna è giovane o per chi non lo sapesse per chi non conoscesse gli scritti di maria valtorta simone cananeo prima di diventare apostolo era lebroso quindi viene guarito curato miracolosamente da gesù dalla lebra che lo affiggeva non mi vorrei dire che non conosci lazaro di betania spero so bene che gli sei amico ci sei stato anche col maestro in calza giuda e se ciò fosse risponde simone posto che cioè cioè non cioè ciò è dico io tu devi conoscere anche la peccatrice che è sorella di lazaro la conoscono anche le tombe è dieci anni che fa parlare di sé ha incominciato ad essere leggera appena fu pubere ma da oltre quattro anni non può ignorare lo scandalo anche se era nella valle dei morti e parlo tutta gerusalemme e lazaro si era inchiuso allora a betania ha fatto bene del resto nessuno avrebbe più messo piede nel suo splendido palazzo di sion dove anche lei andava e veniva intendo dire nessuno che fosse santo in campagna si sa e poi ormai lei dappertutto fuorché a casa sua ora certo è a magdala sarà in qualche nuovo amore non rispondi puoi smentirmi non smento taccio allora è lei anche tu la riconosciuta l'ho vista bambina eppura allora la rivedo ora ma la riconosco impudicamente ripete l'efficio della madre sua una santa e allora perché quasi negavi che il tuo amico l'avesse per sorelle le nostre piaghe risponde simone quelle di coloro che amiamo si cerca di tenere le coperte specie quando si è onesti siamo obbligati a fare il secondo pit stop no simone lo zelote un apostolo poco conosciuto perché i vangeli lo nominano ma non fa niente praticamente simone lo zelote sappiamo solo che simone lo zelote si se non ricordo male ha avuto un martirio abbastanza doloroso perché simone lo zelote morto segato vivo era abbastanza anzianotto e la lebra gli aveva lasciato un sacco di buchi sul corpo per cui diverse volte quando maria valtorta lo descrive lo descrive come un uomo certamente non di aspetto che la devole ma era forse proprio per questo suo grande dolore e anche per la pregressa violenza perché simone lo zelote era uno zelote prima di diventare lebroso e se non ricordo male non vorrei infangarlo però se non ricordo male gli scritti li ho letti 7 8 volte ma sono passati tanti anni dall'ultima lettura dovrebbe addirittura aver ucciso qualcuno addirittura quindi era un uomo insomma che aveva avuto una vita abbastanza come dire complessa travagliata e se era poi stato un bel pezzo sicuramente a scontare un po di peccati nella valle dei morti e per essere brossi questo gli aveva causato una acquisizione diciamo così di di una saggezza di una sapienza diciamo così superiore alla media tanto è vero che dopo la morte di gesù gesù diede dei compiti molto particolari proprio di radunare gli apostoli di conservare una serie di obbedienze di silenzi sapete a chi questa è una cosa che si sa descritti di maria valtorta perché non si sa le vangeli a lazaro e a simone lo zelote non era il prediletto di gesù perché era san giovanni non era l'amico di gesù perché era lazaro ma era un apostolo di cui gesù stesso aveva una grande considerazione per questo motivo e la sua saggezza e la sua sapienza emerge vedete giuda sempre al solito comincia a curiosare a fare domande indiscrete e vedete come lui prima dice non so nulla poi quando lo incalza gli comincia a fare le domande dirette non risponde se ciò fosse poi vomita tutto giuda e continua con le domande dirette che non si devono mai fare se non rispondi può smentirmi vedete la sapienza non smentisco taccio vedete come applica un proverbio dei grandi maestri di spirito no se si può parlare del prossimo in bene si faccia quando non si può si taccia io parlo anche per me non capite delle volte nei poveri preti siamo in imbarazzo perché dicendo delle cose diciamo anzitutto a noi stessi perché siamo tutti quanti in cammino e bisognosi di conversione no però se imparassimo tutti a fare così faremmo molti meno peccati e il mondo sarebbe sicuramente un posto migliore no e quindi quando vuoi giù da quasi tronfio diciamo smascherato allora perché negavi che il tuo amico l'avesse per sorella diceva una grande frase le nostre piaghe e quelle di coloro che amiamo si cerca di tenere coperte specie quando sia onesti grande risposta no ecco giuda ride verde interviene adesso simon pietro dice bene simone dici bene simone e tu sei un onesto e riprende giuda e tu l'avevi riconosciuta a magdala a vendere il tuo pesce ci vai di certo e chissà quante volte l'hai vista pietro risponde ragazzo sappi che quando si hanno le reni stanche di un onesto lavoro le femmine non fanno più voglia si ama solo il letto onesto della nostra sposa e giuda ribatte eh ma una roba bella piace a tutti almeno non fosse altro si guarda e pietro risponde perché per dire non è cibo per la tua mensa no sai dal lago e dal mestiere ha imparato diverse cose e una è questa che pesce d'acqua dolce e di fondale non è fatto per acqua salsa e corso vorticoso vuoi dire voglio dire che ognuno deve stare al suo posto per non morire in malo modo giuda ti faceva morire la maddalena no ho cuoio duro ma me lo dici ti senti male tu forse io dice giuda a io non neppure guardata bugiardo scommetto che ti sei eroso per non essere su questa via in barca averla più vicina avresti sopportato anche me per essere più vicino tanto è vero quel che dico che minori della tua parola in grazia sua dopo tanti giorni di silenzio io se giuda ma se non sarei stato neppure visto guardava continuamente il maestro lei risata e dice che non la guardava come è fatta a vedere dove guardavo se non la guardavi ridono tutti meno giuda vedete perché Gesù e lo zelote all'osservazione di pietro facciamo un altro beat stop una delle cose più belle che emerge dagli scritti di maria valtorta ed è un che uno dei motivi quando gesù al termine dell'opera spiega il perché ha fatto questa grazia straordinaria per chi ci crede dieci volumi cioè che descrivono qualcosa dell'infanzia della madonna di gesù e poi i tre anni di vita pubblica di gesù la passione alla morte e la resurrezione e la glorificazione è tantissima fatica tantissima roba gesù spiega che uno dei motivi per cui la data era di mostrare un ritratto vivo di giuda che dimostrava soprattutto a noi preti per vedere chi era come era nell'opera si vede proprio vedete qui c'è persona insopportabile tanto è vero che pietro non lo sopportava non si sopportavano a vicenda il più giovane tra i più giovani più più giovane era san giovanni ma credo che lui fosse il il più giovane dopo san giovanni e il più bello e anche tra i più colti e superbo perché era cresciuto in mezzo a tempio di gerusalemme quindi a tutti quanti i professoroni dell'epoca e quindi si pensava fondamentalmente di essere numero uno all'interno del gruppo apostolico lussurioso perché le donne gli piacevano come e ci andava perdonatemi la schiettezza ma è così e i soldi e nonché il potere di essere qualcuno di essere stimato di essere eccetera eccetera solo che in certi momenti aveva dei delle grazie attuali evidentemente che il signore gli concedeva per cercare di aiutarlo e che sembra un'altra persona durava tre giorni poi ricominciava come prima un personaggio da studiare nei minimi dettagli anche da studiare la modalità con cui arriva poi a tradire gesù interessantissimo pietro è un altro personaggio interessantissimo studiarlo attraverso questa rappresentazione via degli degli scritti quindi vederlo proprio pietro assomiglia un pochino a come ce lo siamo immaginato ecco cioè io e qui vedete asfalta un pochino giuda come dire che stava cercando un pochettino di stuzzicarlo attraverso la sua una delle qualità che certamente il signore più apprezzata la sua onestà la sua laboriosità la sua fedeltà la moglie non avere grilli per la testa diciamo così no però certamente questo alterco fa comprendere come dire l'essere ancora un frutto acerbo pietro era un santo uomo lo è sempre stato questi difetti diciamo così che sono difetti di di carattere assolutamente normale che si abbiano all'inizio di un crino cammino altri perché santi si diventa non non ci si nasce no temperamento bello focoso quasi certamente pietro era un un collerico chissà forse un sanguigno ma ecco vedete però in ogni caso a un certo punto poi dopo l'ironia che smaschera giuda diceva come fai vedi che ha sempre guardato gesù se tu non l'hai guardato per niente ridono tutti però non ridono qui oltre a giuda non ridono ancora gesù e lo zelote perché non c'è niente da ridere e anche qui vorrei come dire fare una provocazione per me e per tutti sapete a volte non si deve ridere anche dinanzi a cose per cui ridono tutti non ridere è un piccolo segno di non approvazione di ciò per cui si sta ridendo perché comunque sia quello alterco quello quello scambio tra pietro e giuda di certo non aveva nulla di edificante no allora oltre che non ridere però riprendo la lettura gesù pone termine alla discussione che ha mostrato di non udire vedete ha fatto finta di non sentire a io su quello sono di sono dove sono dovuto diventare un maestro lo dico sempre ai miei figlioli ai parrocchiani di cosa abbessi quante volte devo finta di non vedere di non sentire ma attenzione però che la gente non ci pensa io vedo e ascolto tutto io osservo e ritengo tutto cervelletto mio che è un pochino sovraccaricato di informazioni si scorda delle informazioni che la memoria in automatico reputa come secondarie no un po come gli smartwatch di oggi non sapete che sono le le notifiche vengono accantonate vengono messe come secondarie ma le cose primarie me ricordo tutte come quindi gesù poi lo dice a un certo punto degli scritti prende gli apostoli e dice io ogni tanto mi estraneo e voi pensate che io sto con la testa per aria che non mi ma io vi sto osservando fin nei minimi dettagli io osservo tutto perché tutto è importante per studiarvi e poi per indirizzarvi e poi per parlarvi e poi per correggervi tutto ecco questa è una cosa che i pastori devono fare tutti a tutti i livelli cioè specialmente chi sta in cura d'anime perché ogni minimo dettaglio è importante per cercare di conoscere in base a quello che si vede la persona perché certamente il cuor lo conosce soltanto il signore ma da ogni minimo dettaglio del nostro comportamento si traggono elementi utili per conoscere la persona i pregi i difetti le cattive tendenze le cose da porreggere quelle da incanalare quelle da incoraggiare eccetera no i talenti da impiegare come impiegarli eccetera vabbè qui gesù pone termine alla discussione che ha mostrato di non udire all'audita chiedendo a pietro quella tiberiade si maestro ora faccio l'accostata attendi puoi metterti nel seno pieto vorrei parlare a voi soltanto misura il fondo e te lo so dire pietro caro una lunga pertica avvalento verso riva dice si può maestro vado ancora contro la sponda più che puoi dice gesù c'è ombra e solitudine mi piace ombra e solitudine piacevano a gesù pietro va fin sotto la riva la terra è lontana al massimo 15 metri ora toccherei ferma e voi venite a costo più che potete e udite e adesso attenzione gesù lascia il suo posto e viene a sedersi al centro della barca su una panchetta che fa da sponda a sponda di fronte all'altra barca intorno agli altri della sua udite eccolo quello che mi ricordavo non mi ricordavo che stava qui vi parrà che io mi astragga talora dei vostri discorsi sia perciò maestro in fingardo che non sorveglia la propria scolaresca sappiate che l'anima mia non vi lascia un momento avete mai visto un medico che studia uno malato di un male ancora incerto di contrastanti sintomi lo tiene d'occhio dopo averlo visitato lo sorveglia e nel sonno e nella veglia al mattino e alla sera e nel silenzio e nel parlare perché tutto può essere sintomo e guida a decifrare il morbo nascosto e a indicare una cura lo stesso faccio io con voi vi tengo con fili invisibili ma sensibilissimi che si innestano in me mi trasmettono le anche più lievi vibrazioni del vostro io vi lascio credere di essere liberi perché vi se vi palesiate sempre più per quello che siete cosa che avviene quando uno scolaro o un maniaco si crede perso di vista dal sorvegliante e qui ci spiega un pochino dei tocchi del mestiere quindi uno deve fare finta di non vedere di non udire perché perché così le persone si sentono libere perché se uno si sente sotto osservazione è no se questo mi sta osservando e io devo fare bella figura quindi uno non è sincero non è vero e gesù ristruisce sul modo di restare fedeli alla sorta su cui sono stati eletti però questo chiaramente un argomento che poi esce dal tema e noi passiamo direttamente oltre la pena del fratello e della sorella facciamo ancora in tempo a leggere qualche cosa secondo capitoletto dopo un incontro a sorpresa nella piazza dal mercato di gerico con giude scariota che in galilea ha lasciato il gruppo aducendo motivi non veri gesù con tutti i suoi si avvia alla volta di betania con l'intesa che soltanto quattro tra cui simone zelote vecchio amico di lazzaro gli faranno una sosta con lui quando giungono a betania e venendo da gerico per quella via la casa di lazzaro si incontra fra le prime gesù congere il gruppo che deve andare a gerusalemme poi l'altro che manda verso betlemme dicendo andate sicuri troverete a mezza via isacco e lì agli altri dite che sarò a gerusalemme per molti giorni che li attendo per benedirli o isacco ed elia sempre per chi non conoscesse il tito di mario al torta sono due dei diversi pastori che hanno adorato gesù bambino a betlemme intanto simone ha bussato al cancello e si è fatto aprire i servi danno l'avviso e accorre lazzaro giude scariota che si era già dilungato di qualche metro torna indietro con la scusa di dire a gesù ti ho spiacciuto ti ho spiacciuto maestro l'ho capito perdonami e intanto sbircia dal cancellone aperto nel giardino verso la casa si va bene vai vai non fai attendere i compagni giuda deve pure andarsene pietro mormora sperava che ci fosse un cambio di ordine questo mai pietro so quello che faccio ma tu compatiscilo con l'uomo cercherò ma non prometto addio maestro vieni matteo e voi due andiamo presto la mia pace con voi sempre pit stop pit stop numero uno vedete gesù so quello che faccio gesù sapeva sempre quello che faceva quindi se aveva dato un ordine di mandare via certe persone di tenere con sé soltanto alcune non è che qualcuno poteva andare a dire senti po perché quello sì ed io no gesù sa quello che fa ma non solo che non lo dice non è tenuto a dirlo ma non è neanche opportuno dirlo e non bisogna chiederlo mutatis mutandis questo lo faccio notare quando si ha a che fare appunto con rappresentanti di gesù che si spera siano tutti quanti degni di questo nome questi lo sanno quello che fanno si spera cioè non agiscono a vanvera nel fare o nel non fare qualcosa ed è bene sempre tenerlo presente e non fare troppe domande perché tante cose non si possono dire non si possono e non si devono dire in tante circostanze è chiaro che gesù è gesù i suoi ministri sono fallibili d'accordo quindi mentre gesù sapeva quello che faceva e quello che faceva era sempre il meglio a volte può succedere che un ministro crede di sapere quello che faccia ma non ha detto che faccia il meglio però però rimane un però e poi invita alla compassione nei confronti di giuda compatiscilo con l'uomo persone come giuda e ce ne stanno purtroppo l'unica speranza di cercare di convertirle farle ravvedere farle rendere conto di quello che sono l'unica è la compassione l'unica non è detto che funzioni infatti non ha funzionato con giuda il cuore era troppo duro ma sicuramente altro non farà che aggravare la condizione di quel polo disgraziato noi non dobbiamo mai essere aggravatori ecco perché se giuda si si è dannato come si è dannato non date retta a chi dice che giuda sta in paradiso ok addirittura qualcuno negli anni passi ha detto è quasi quasi dobbiamo fargli un monumento perché ha tradito il signore quindi Gesù è morto in croce e attraverso la morte in croce è stata la redenzione quindi dobbiamo pure dirgli grazie giuda secondo qualche fuori di testa perdonatemi se mi asso questa espressione quindi va beh allora va avanti Gesù entra con i quattro rimasti e dopo il bacio con Lazzaro presenta Giovanni Filippo e Bartolomeo e poi li congeda rimanendo solo con Lazzaro ovviamente Simone non c'era bisogno di presentarlo perché lo conosceva però Giovanni 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 è il prediletto Filippo e Bartolomeo Bartolomeo era un altro apostolo molto anziano insieme a Simone lo Zelota erano i due come dire venerandi del gruppo apostolico e Filippo era un santuomo si vede poi sposato con le sue figlie e a un certo punto è bellissimo che Gesù gli chiede i sacrifici di entrambe le figlie che tutte le figlie poi sarebbero state nel numero delle prime vergini consacrate quindi una storia molto molto bella con quest'uomo vanno verso casa questa volta sotto il bel portico è una donna è Marta non alta come la sorella ma sempre alta bruna mentre l'altra è bionda e rosea è però una bella giovane dal corpo è una donna 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 sotto cui è la fronte brunetta e liscia e due dolci e mansueti occhi neri lunghi vellutati fra le ciglia scure ha il naso levemente curvo verso il basso e una piccola bocca molto rossa fra il colore brunetto delle gote sorride e mostra dei denti forti e candidissimi solide descrizioni spettacolari di Maria Valtorta veste di lana azzurro cupo con galloni rosso e verde cupo al collo e ai limiti delle ampie maniche corte fino al gomito da cui escono altre maniche di vino finissimo e bianco strette al polso da un cordoncino che le arriccia anche al sommo del petto alla radice del collo sporge questa camicetta finissima e bianca tenuta stretta da un cordone ha per cintura una sciarpa azzurra rossa e verde di stoffo molto fine che le serra è il sommo delle anche e le ricade con un fiocco di frange sul lato sinistro un abito ricco e castro ho una sorella maestro eccola è Marta buona e pia il conforto e l'onore della famiglia e la gioia del povero Lanzaro prima era la prima ed unica gioia mia ora la seconda perché la prima sei tu Marta si prostra fino a terra e bacia l'orlo della veste di Gesù Gesù le dice pace alla sorella buona e alla donna casta alzati Marta si alza ed entra in casa con Gesù e Lanzaro poi chiede di assentarsi per le cure di casa è la mia pace mormora Lanzaro e guarda Gesù uno sguardo scutatore ma Gesù mostra di non vederlo Lanzaro apprende che il pastore Giona legato ad una storia toccante drammatica veramente drammaticissima è morto per le sue per le sevizie del suo crudele padrone il fariseo Doras e vuole mettere in guardia il maestro o Doras è un altro di quei personaggi proprio soggetti proprio rari ha fatto morire sto polaccio di Giona trattando in una maniera proprio inumana disumana e si vede negli scritti della Valtorta Lanzaro dice è un demonio e ti odia odia tutto il mondo quella iena a te non ha detto che ti odia me lo ha detto dice Gesù diffida Gesù di lui è capace di tutto signore che ti ha detto Doras non ti ha detto di sfuggirmi non ti ha messo in luce obbrobriosa il povero Lanzaro Gesù risponde ma credo che tu mi conosca a sufficienza per capire che da me giudico e con giustizia e che quando amo amo senza pesare se questo amore può farmi bene o male secondo le luci del mondo non serve fare il pit stop queste grandi parole del nostro grande maestro si commentano da sole quindi chapeau ovviamente ma quell'uomo è feroce dice Lanzaro è atroce nel ferire e nel nuocere mi ha tormentato anche giorni fa mi è venuto qui e mi ha detto occhio ho già tanto tormento perché volermi levare anche te Gesù risponde io sono il conforto dei tormentati e il compagno degli abbandonati sono venuto a te anche per questo magari i tormentati e gli abbandonati capisserò questo quanto è bello rifugiarsi tra le braccia di Gesù imparare a farlo amici ricordate queste sono delle cose in assoluto più importanti di tutti gli uomini quando si sentono tormentati abbandonati cercano normale che sia consolazione e consolatori umani icci normale ma non c'è nessun consolatore e nessun confortatore che veramente sgrava il cuore quanto Gesù chi impara a fare questo campa bene bene Lazaro riprende ah tu allora sai oh mia vergogna no risponde Gesù perché è tua so e che perciò avrò una tema per te che soffri io sono misericordia pace perdono amore per tutti ma che sarò per gli innocenti tu non hai il peccato per cui soffri dovrai infierire su di te se ho pietà anche di lei l'hai vista l'ho vista non piangere ma Lazaro abbandonato col capo abbandonato sulle braccia concerte sul tavolo piange con singhiozzi penosi Marta si affaccia e guarda Gesù le facendo di stare zitta e Marta se ne va con dei lacrimoni che scendono senza rumore Lazaro si calma poco a poco e si umilia per la sua debolezza Gesù lo conforta e poiché l'amico desidera ritirarsi un momento esce nel giardino e passeggia fra le aiuole dove resiste ancora qualche rosa purpurea Marta lo raggiunge poco dopo Maestro Lazaro ha parlato? Sì Marta Lazaro non sa darsi pace da quando sa che tu sai e che l'hai vista e come lo sa? Sentite eh Prima quell'uomo che era con te e che si dice tuo discepolo quello giovane alto bruno e senza barba e poi Doras ci ha frustati col suo disprezzo questo l'altro ha detto solo che l'avete vista sul lago con i suoi amanti Gesù risponde ma non piangete per questo ma credete che io ignorassi la vostra ferita ma la sapevo da quando ero nel padre non ti accasciare Marta solleva cuore e fronte prega per lei maestro io prego ma non so perdonare del tutto e forse l'eterno respinge l'orazione ascoltare bene bene hai detto perdonare bisogna per essere perdonati e ascoltati guardate quando Giorgio Vangelo vi dice prima che vi mettete a pregare perdonate tu sorella buona ma dammi il tuo perdono è quello di Lazzaro tu sorella buona puoi parlare e ottenere ancora più di me la sua ferita è troppo aperta e bruciante perché anche la mia mano la sfiori tu puoi farlo datemi il vostro perdono pieno santo ed io lo farò perdonare ah non potremo la nostra madre è morta di dolore per le sue male azioni e erano ancora lì rispetto a quelle di ora io vedo le torture della madre le ho sempre presenti vedo ciò che soffre Lazzaro Gesù ribatte è una malata Marta una folle perdonate sentite Gesù che cosa dice è un'endomoniata maestro vi dice Marta è Gesù e che è la possessione diabolica se non una malattia dello spirito contagiato da Satana al punto di snaturarsi e non essere spirituale diabolico come spiegare altrimenti certe perversioni degli umani perversioni che rendono l'uomo molto peggiore delle belve in ferocia più libidinoso delle scimmie e lussuria e così via e ne fanno un ibrido in cui sono fusi l'uomo l'animale e il demonio questa è la spiegazione di ciò che stupisce come una vostruosità inspiegabile in tante creature non piangere perdona io vedo perché io ho una vista più alta di quella dell'occhio e del cuore ho vista di Dio vedo e ti dico perdona perché è malata ora qui mi tocca fare il pit stop tanto abbiamo quasi finito sia la lettura che la catechesi servono gli psicologi dinanzi a queste diagnosi di di Gesù noi le possiamo fare le diagnosi di certe cose malattia dello spirito contagiato da satana al punto di snaturarsi in un essere spirituale diabolica certe perversioni negli negli umani come fanno a diventare più libidinoso di una scimmia e lussuria o spietato una belva un assassino una bestia peggio delle belve feroci un ibrido dice Gesù in cui sono fusi l'uomo inteso come essere nobile quindi creatura razionale l'animale che noi siamo anche animali l'uomo è un animale razionale disse Aristotele è il demonio le mostruosità inspiegabili in tante creature quando vediamo una persona che è veramente fuori come diciamo noi si spiegano in questo modo non serve fare la psicanalisi e anche qui qual è la prima cosa da fare compatire perdonare il peccatore prima di ogni altra cosa è un grandissimo malato non sa di esserlo non crede di esserlo ovviamente tu pensi di stare benissimo ma così non è ti dico perdona perché è malata e Marta ribata te guariscila allora e Gesù la guarirò abbi fede ti farò felice ma tu perdona e di a Lanzaro che lo faccia perdona amala ancora avvicinala parlale come fosse una come te parlale di me incredibile ecco la terapia data da Gesù ma come vuoi che capisca te santo e sentite adesso cosa risponde Gesù sembrerà che non comprenda ma anche solo il mio nome è salvezza fa che mi pensi e mi nomini o Satana fugge quando il mio nome viene pensato da un cuore sorridi Marta a questa speranza altro che il stop fa che mi pensi e mi nomini Satana fugge quando il mio nome viene pensato da un cuore anche solo pensato il nome di Gesù è importantissimo chiamarlo Gesù per nome siete mai chiesti perché è così grande la preghiera del rosario prima perché continua nel Padre Nostro che è la preghiera che ci ha insegnato il Signore e che è tutto quello che dobbiamo chiedere a Dio ma nell'Ave Maria ci avete mai pensato perché l'Ave Maria è una preghiera così potente perché due volte c'è il nome Maria Ave Maria e Santa Maria e una volta c'è il nome Gesù voi pensate che uno che dice un rosario intero come adesso quindi con 400 Ave Maria no 200 Ave Maria nomina per 200 volte il nome di Gesù e per 400 volte il nome della Madonna che pensiamo che soltanto nominarli passa solo nominarli sapete che i diavoli non nominano mai i nomi di Gesù di Maria se non ricordo il libro di padre Francesco Bamonte ci abbiamo fatto con tante veglie in casi rarissimi e quando Dio li costringe perché quel nome non lo possono sentire cioè solo sentirlo li fa stare di un male pazzesco quindi fa che mi pensi fa che mi nomini sorridi Marta a questa speranza guarda questa rosa la pioggia dei giorni scorsi l'aveva mortificata ma il sole di oggi guarda l'ha schiusa ed essa è ancora più bella perché la pioggia che permane fra petolo e petalo in gemma di diamanti così sarà la vostra casa pianto e dolore ora e poi gioia e gloria va dillo a Lazzaro mentre io nella pace del tuo giardino prego il Padre per Maria e per voi tutto a fine così di questo episodio e direi che tutto a fine così anche di questa prima puntata Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga